... ...emozionante sicuramente per tutti voi. Noi, amministrazione comunale, lo siamo tanto e vedo tantissime persone che sono accorse a questa nostra chiamata questa sera per intitolare questa piazza tanto voluta dal nostro amico Emilio Ruggero ex sindaco di Montefalcione ma soprattutto per ripercorrere insieme ai suoi familiari, ai suoi amici, ai suoi mentori a chi lo ha accompagnato sia nella vita personale ma soprattutto in quella politica e ripercorrere con loro tutti i suoi percorsi di vita attraverso i loro messaggi, attraverso i loro interventi e io lascio immediatamente la parola al sindaco Angelo Antonio D'Agostino per ricordarlo sicuramente come amico e emozionato il sindaco stasera perché era un grande amico di Emilio Ruggero noi abbiamo pensato di ricordare Emilio così, i grandi uomini si misurano da ciò che danno e non da ciò che ricevono ma sappiamo tutti, chi lo ha vissuto un po' di più, chi lo ha vissuto un po' di meno sappiamo tutti che Emilio è stato un uomo che nella sua vita ha dato senza mai pretendere niente per questo forse rimane così vivo e fervido il suo ricordo in ognuno di noi quindi il sindaco Angelo Antonio D'Agostino lo invito a venire qui per un saluto e un ricordo Buonasera a tutti non nascondo l'emozione che ho qui stasera insieme a voi per intitolare questa meravigliosa piazza voluta soprattutto dall'amico Compiando Emilio Ruggero intitolarla a lui insieme a voi per me è un grande onore oltre che ad essere un suo amico è un onore ancora più grande poterlo fare io da sindaco anche perché lui mi ha preceduto è stato sindaco prima di me in questa comunità dove tutti ricordiamo ancora oggi anche di sera io sono stato in alcune contrade parlando con persone tutti si ricordano del grande Emilio Ruggero è un grande amico, un grande amministratore ma soprattutto una persona molto molto vicina ai cittadini tutti ricordiamo Emilio non tanto per le opere per quello che ha fatto per questa comunità per tutte le iniziative per cercare di rilanciare quello che era il nostro territorio ma soprattutto per quello che Emilio ha dato stando vicino alla popolazione ma soprattutto ai più deboli a quelli più bisognosi a quelli più che avevano bisogno lui non aveva orari non aveva mai nessuna ora per cui non era possibile ascoltare chiunque e per cui io ritengo che ognuno di noi in persona e tutti quanti quelli che vogliono incaminarsi nel discorso politico e dare qualcosa agli altri bisogna farlo così come lo faceva lui perché per me è stato un grande insegnamento erano gli anni importanti che abbiamo passato una piccola parte della nostra giovinezza purtroppo è finita subito però io ho avuto un grande insegnamento anche della sua capabilità anche nelle cose che diceva di fare perché credeva fermamente nelle cose che voleva e credeva per la propria popolazione io dico che questo è un elemento imprescindibile per chi vuole proporsi a guidare una popolazione a una comunità come quella nostra quella comunità di Montepalcione credo che sia un elemento importante questo è un elemento imprescindibile per poter far sì che ognuno possa dare quello che Emilio a tutti noi ha lasciato io sono molto emozionato non riesco a dire tante cose io con lui ero un'unica persona eravamo a litigare in continuazione su problemi, su problematiche su quelle che erano le questioni anche locali e comunali però alla fine si arrivava comunque ad una soluzione e devo dire che questo per noi, per me e anche per gli altri io cercherò di trasferire anche questo insegnamento che per me è un grande onore averlo conosciuto e aver potuto stare con lui quegli anni importanti perché lui in quel momento era sindaco ma non solo consigliere provinciale e poi assessore provinciale era all'inizio della sua carriera politica per cui noi ci siamo tutti quanti vicini ho visto tanti amici tanti amici che in questo momento con lo sguardo ci guardiamo e pensiamo la stessa cosa Emilio non solo era un bravo amministratore ma era soprattutto un grande uomo un grande uomo e di queste le sue caratteristiche ne facevano una persona speciale e per questo io sono onorato di poter essere io a intitolare questa piazza all'amico compiando dopo 14 anni Emilio Ruggero vi ringrazio tutti e scusate per Emilio Ruggero l'ho accompagnato nella sua carriera politica durante il primo mandato di Emilio se non erro dal 92 al 94 era ministro degli interni e successivamente era giusto presidente sì, non erro, vero? sì e successivamente invece presidente del Senato invito qui a ricordare il nostro amico Emilio Ruggero il presidente Nicola Mancino grazie a tutti 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 Ho conosciuto che è un ragazzo appena affacciato alla vita sociale pubblica, curiosità, interessi, apertura alle amicizie, disponibile all'impegno in favore degli altri e della sua comunità. Lo seguito, oserei dire, l'ho accompagnato nel suo impegno politico, fin dai tempi dei gruppi giovanili della democrazia cristiana e poi via via negli incarichi ricoperti nel partito, nel comune di Monte Colcione e nella provincia di Avellino. In Emilio mi trovavo i tanti salienti, il dialogo e il confronto come metodo dell'agire politico oltre i confini di appartenenza. Poi mi consentite di sottolineare, a Monte Colcione ci fu una gestione commissariale nella sezione della democrazia cristiana e a seguire i tanti ragazzi che avevano partecipato alle riunioni. C'era, diciamo, un'attenzione particolare. Io ero accanto a Enzo De Luca, che era commissaria della sezione e dopo un po' di tempo a me disse se non fate Emilio Ruggero diventa molto più difficile riprendere il cammino della allora della democrazia cristiana. In Emilio ritrovai i tanti salienti di un impegno politico che era stato ed era anche il mio, il legame con il territorio, l'attenzione ai problemi e alle necessità di tutti, ma soprattutto dei più svantaggiati, il dialogo e il confronto come metodo per l'agire politico oltre i confini delle appartenenze. Aveva capito fino in fondo che il primo dovere del buon amministratore è ad operarsi per soddisfare le esigenze della popolazione, non sfruttare la carica per una carriera politica. Non saprei dire quanta questa consapevolezza sia ancora viva nelle nostre classi dirigenti. La crescente disaffezione elettorale è anche il risultato amaro di un progressivo allontanamento degli amministratori rispetto ai cittadini. Per Emilio non era così, per lui il legame con le persone e le famiglie, il recupero e la valorizzazione della storia, dei beni culturali e ambientali del territorio erano la sostanza dell'agire politico. Se non fosse stato così non si spiegherebbe il folgorante successo della sua carriera politica e lo dico tra virgolette perché il suo non era un mestiere ma una vocazione. Personalmente io non posso non ringraziare un amico di vecchia tavola, quello che ha saputo scrivere oggi sul quotidiano sud. È un santangionese, mio carissimo amico, anche di Emilio, una capacità di ripercorrere la vita politica di Emilio Lucia e quindi io non posso non ringraziare. Ho letto e ho riletto, tanto era il moto dell'animo suo nei confronti di Emilio Lucia. Negli anni della sua duplice sindacatura che il mio malgrado mi tenevano lontano dalla mia terra. Mi ricordo con piacere i frequenti incontri che avevo con Emilio quando appena potevo rientravo a Montefasciore. Mi parlava di problemi che dovevo affrontare come sindaco e amministratore. Mi chiedeva consiglio, aiuto. Per me era un bagno rigeneratore nella realtà del territorio che lui conosceva benissimo e che costituiva la linfa e la ragione nelle sue responsabilità quotidiane. Vado alla mia conclusione. Nonostante la differenza di età, lo consideravo un vero amico. Oggi posso dire che i riconoscimenti che la sua città gli ha tributato sono la testimonianza del vuoto che ha lasciato tra di noi. E in effetti questo bisogna rimarcarlo più di una volta. Emilio Ruciero fu a capo delle amministrazioni ma ebbe collegamenti con una serie di personalità che allora vivevano la vita amministrativa, quella soprattutto della provincia di Avellino. Oggi come oggi noi lo ricordiamo ed io ho avuto l'onore di poter sottolineare le sue virtù, le sue capacità, la sua fermezza nel coltivare e di coltivare soprattutto i rapporti con la popolazione. Emilio è stato un grande, possiamo dire, purtroppo prematuramente lo abbiamo creduto. Oggi è un'occasione felice per me poter dire che Montefalcione intesta una piazza come questa dopo tanti sacrifici che lui aveva fatto e tante attività che aveva svolto nel comune di Montefalcione. È sempre vivo questo ricordo e intestare questa piazza è stato un grande onore, forse con molto ritardo, ma è stato capace di toccare l'animo umano della popolazione. Io ti dico personalmente che è difficile incontrare gli amministratori. Ho sentito anche il sindaco, che ringrazio per le parole che ha rivolto alla memoria di Emilio Ruggero. Emilio Ruggero è stato un grande protagonista della vita politica. Devo dire, e lo dico ad Enzo De Luca, che quando ci siamo incontrati per vedere come si poteva attivare le energie dei tanti giovani che frequentavano la sessione della democrazia cristiana, io dico che questo è un atto di responsabilità. La gente lo ricorda è perché ha saputo anche amministrare come è avvenuto. Io sono molto emotivamente, sono molto preso questa sera. E' meglio, è come se lo ricevessimo così come avveniva a me. ha saputo amministrare e io dico che questa gente che così si è raccolta questa sera ha un grande significato. quello di ricordare un grande amministratore è una persona che è stata capace di dare un futuro ad una popolazione che all'epoca era un po' contraddittoria. Ecco, io ricordo che sono state fatte delle cose enormi dal punto di vista delle attività amministrative operoso e dedito soprattutto al senso di responsabilità. Grazie, posso dire, a Evidio. Grazie a voi. Grazie al Presidente Nicola Mancino. No, mi preoccupate. Presidente, saremo tutti. è stato successore ad Emilio Ruggero. Ahimè, Emilio era morto da pochissimo quando la professoressa e sindaco di allora, Banda Grassi, cominciò quest'iter. Ma ci vogliono dieci anni per poter intitolare. L'amministrazione Belli ha dato seguito a questa cosa e con l'amministrazione d'Agostino finalmente siamo riusciti con la Prefettura e con tutti gli organi competenti con una delibera di giunta a poter intitolare finalmente questa piazza al nostro amico e sindaco Emilio Ruggero. Per ricordarlo ovviamente chiamo la professoressa e sindaco, ex sindaco di Montefalcione, Banda Grassi. che rende un insieme di persone come noi che si trovano per caso o per scelta a vivere in un luogo, in uno stesso luogo, cos'è che rende queste persone una comunità unita, coesa, fatta di individui che hanno l'orgogliosa consapevolezza di appartenere a una realtà identitaria che li distingue da tutti gli altri. Bene, senz'altro è quel patrimonio di valori, di storia, di tradizioni che rappresentano per noi come una sostanza cementante che unisce tutti e ci raccoglie in un unico organismo vitale. Ecco, quindi coltivare il culto della memoria è fondamentale e significa avere la consapevolezza degli eventi passati e recenti e significa avere il culto della memoria significa poter interiorizzare quei valori che sono valori identitari di una comunità. Ecco, allora il culto della memoria non è semplicemente il sentimento nostalgico magari di un romantico cultore della storia ma è un processo che deve riguardare tutta una comunità ed è giusto e doveroso per una comunità ricordare quelle persone che hanno dato e si sono prodigati per il bene di tutta la comunità. Emilio senz'altro era tra questi. Io devo dire che anche io ho imparato tanto da Emilio, quando Emilio era innamorato della politica, solleva ripetere spesso che l'impegno politico è l'espressione più alta del senso civico, del dovere civico. Io ho incontrato pochi politici che abbiano espletato il loro ruolo con tanta passione e con tanta determinazione. Emilio aveva, l'ho ricordato il presidente Mancino, aveva una capacità relazionale che era straordinaria con gli anziani, con i bambini. L'associazione dell'Unicef ritenne di dover nominare Emilio primo in tutta la provincia di Avellino sindaco difensore dei bambini. E che dire poi del suo rapporto con i giovani. Emilio trascorreva ore e ore con i giovani studiando in maniera medicolosa, minuziosa, i bandi, le leggi che potessero in qualche modo orientare i giovani, aiutarli a trovare uno sbocco occupazionale. Emilio era anche un po' il punto di riferimento per tutti gli amministratori del circondario. La nostra sala consigliare pullulava continuamente di sindaci, di consiglieri, di amministratori perché sempre dovevamo aggiornarci e dovevamo capire come insieme potessimo svolgere un ruolo di sviluppo e di stimolo per i nostri paesi. Ricordare poi le opere pubbliche realizzate da Emilio è un'impresa ardua e senz'altro non me ne dimenticherei qualcuna, anzi una buona metà. Però qualcuna sì, qualcuna la voglio citare perché secondo me è anche indicativa del rapporto intimo che c'era tra la popolazione e l'amministrazione. Ricordo per esempio il sentiero della Ripa, realizzato in collaborazione con la comunità montana perché allora Montefalcione faceva parte della comunità montana del Partenio. Ebbene, quel sentiero fu poi utilizzato ed è tuttora utilizzato dai fedeli e ha preso il nome giustamente della Via Crucis anche perché fu oggetto di una donazione da parte di un altro insegne, figlio di questa terra, il professore Martignetti che donò i gruppi scultori per le stazioni della Via Crucis. Un altro elemento importante fu poi la sistemazione dell'area intorno alla Statua di Sant'Antonio. Anche lì fu possibile perché una famiglia originaria di Montefalcione, anche se non più residente a Montefalcione, la famiglia Melillo, donò un'area, tutta l'area circostante alla Statua di Sant'Antonio e la statua stessa fu realizzata, anche questo lo voglio ricordare, da un altro artista di Montefalcione, il professore Melillo. Io credo dunque che sia giusto e doveroso per una comunità rendere un tributo a quelle persone che hanno dato buona parte della loro esistenza per il bene di tutti e finalmente, dopo tanto tempo, siamo arrivati a realizzare quello che era un percorso avviato già all'indomani, purtroppo, della scomparsa di Emilio Ruggero. E quindi grazie a tutti. I messaggi che noi abbiamo ricevuto in questi giorni e che abbiamo ricevuto poi attraverso Felice Ruggero, e durante la serata ne ascolteremo attraverso la voce di due ragazzi montefalcionesi alcuni. Il primo che vogliamo farvi ascoltare è quello che ha pensato di inviarci il Presidente della provincia, Rizieri Bonopane. E' da elogiare l'iniziativa dell'amministrazione comunale, di ricordare la superlativa figura del compianto Emilio Ruggero, dedicandogli questa piazza. Un segno indelebile dello straordinario rapporto d'affetto tra la comunità e un politico esponente delle istituzioni, appezzato e amato anche al di là dei confini comunali. Da assessore provinciale, ha contribuito in maniera importante alla crescita culturale dell'Irpinia, con azioni che tenevano insieme tutte le realtà del territorio. Il suo attivismo ha fatto davvero bene alla nostra terra. Le giovani generazioni potranno conoscere la sua figura anche grazie all'intotelazione di questa piazza. Montefalcione, 21 agosto 2022, il Presidente della provincia di Avellino, Rizieri Bonopane. Da sempre la professorista Vandagrassi poco fa ricordava che il comune, quando c'era Emilio come sindaco, popolava di consiglieri, di politici e uno di questi sicuramente era l'amico, all'epoca consigliere regionale, Mario Sena, che invito per un piccolo ricordo, e lo sappiamo, proprio perché il Presidente Mancino, prima poi l'ho anche sottolineato, si vuole farcelo un piccolo saluto e un piccolo ricordo. Ma ovviamente, come concittadini meglio di me, hanno detto il Presidente Mangino e il sindaco Grassi, che l'hanno conosciuto da piccolo, lo hanno allevato, lo hanno portato a livelli alti, e meritava, secondo me, se non fosse stato strongato in età giovanile, meritava argomenti più importanti, li aveva meritati sul campo. Mi ha telefonato il fratello per annunciarmi questa serata, e quando mi ha telefonato mi ha preso un moto di commozione, e per questo, ho detto, va, preferisco scrivere e fissare sulla carta qualche pensiero di un amico caro, affettuoso, reale, sincero, di un amico che ho conosciuto in tutta la mia amministrazione politica, e l'ho trovato vicino in tutto il suo percorso coerente di vita politica. la democrazia cristiana, e poi il Partito Popolare, la Margherita, il PD. Emilio è stato un amico, è stato un grande protagonista politico, mi parla detto Vanda, è stato un grande amministratore, per tutte quelle cose che ha fatto, che io ne conosco tante, perché in quell'epoca con Enzo eravamo la regione. E allora il ruolo di consigliere regionale, grazie anche ai nostri autorevoli maestri e amici, significava questo, significa impegnarsi per le comunità, essere a contatto con i sindaci, con gli amministratori, i contatti quotidiani, col partito, che erano in tutt'uno, che il partito si identificava con gli enti locali e i sindaci si identificavano col partito. E quindi è stata un'esperienza ricca, anche per me, anzi forse soprattutto per me, qualcosa, l'ho detto nel breve articolo che ho scritto. Quindi quella commissione me la ritrovo oggi, me la ritrovo oggi anche per un motivo e la chiudo qui. Perché che sia stato un grande amministratore, l'hanno detto tutti, l'ha detto il sindaco, l'ha detto il presidente Mancino, lo sanno i sindaci dei paesi vicini, che non erano solo attenti alle necessità di Montefarcioni o del collegio, lui era su tutti i problemi, mi pare che la provincia rivestisse proprio il ruolo di rapporto con gli enti locali e con le zone interne. Mi pare forse prima di essere assessore era presidente di un'issima. Ripeto, ha lasciato anche a noi un segno forte. E vorrei chiudere così. Emilio se ne è andato prematuramente. E io ricordo bene. E' una coincidenza strana. Ecco perché la mia commissione è stata duplice. Perché qualche mese prima io lasciavo la politica e qualche mese dopo, più o meno a ridosso di quell'elezione, perdavamo un grande amministratore. Ma non l'abbiamo perso come comunità. Che voi ne siete giustamente orgogliosi, e lo dovete essere. E non l'ha perso neppure la provincia, perché il suo modo di fare politica era un seme diffuso. Perché, caro Nicola, così erano i simplici. Emilio a questa presenza continua nelle comunità e sui problemi delle comunità aggiungeva una cosa. La competenza. Perché lui i problemi, e io lo vedevo alla regione, li studiava, li affrontava, e quando incontrava le difficoltà, con la burocrazia, che tutti sappiamo, la donna poi sapeva anche quella di Roma, lui arrivava attrezzato. Per cui la risposta doveva essere positiva. Tu sai, banda, è stata sempre, o quasi sempre, positiva. Amici, non dico altro. Per me è stato un piacere ricevere la telefonata di Felice, ed è pur nella commozione, è un piacere essere qui con voi, in questa bella comunità. Preservate questi valori. Portateli avanti, perché questo è un momento di grande crisi, della politica, e credo anche del suo partito, perché sarebbe stato bello, ho detto il messaggio del Presidente della provincia, ma sarebbe stato bello se ci fossimo ritrovati tutti, partito, rappresentanti delle istituzioni, amici, vecchi amici e nuovi amici, qui con la comunità bella, ricca, di Montefarcione. Perché questa, come ho scritto, è una bella pagina di politica. Grazie, Emilio. E' il momento invece di leggere un altro messaggio. Prima abbiamo letto quello del Presidente attuale della provincia, ora è il momento invece del Presidente della provincia, quando Emilio Ruggero era assessore, ovvero Alberta Di Simone. Il 21 agosto il Comune di Montefarcione rende omaggio alla memoria del Sindaco Emilio Ruggero, intitolandogli la piazza antistante al municipio. Un gesto di riconoscenza verso chi si è distinto nell'intera vita politica per l'amore che ha portato al suo Paese. ci lasciò all'improvviso, nel pieno dei suoi anni giovanili, ma rimane vivo nel ricordo di tutti quelli che l'hanno conosciuto e nel mio animo. E' stato assessore della giunta che ho presieduto e ha svolto quell'incarico con competenza e lealtà. In un tempo in cui la politica era divisa e disseminata di trappole, Emilio è stato un esempio di garbo e discrezione. Pronto a lottare per garantirsi i fondi bilancio necessari alle sue deleche, dimostrava ogni volta di saperli subito impegnare per la collettività. Una qualità che gli procurava qualche invidia, ma che io ritenevo fondamentale in un ente abituato ad accumulare residui passivi. Una volta mi ha invitato ad andare con lui a Montefalcione e mi ha mostrato le cose che aveva realizzato. Di lui mi colpiva la gentilezza, la schiettezza ed il rispetto istituzionale, qualità tipiche di chi è forte dentro, di chi non si limita ad inseguire il consenso, ma sa dimostrare un grande senso di umanità. In questa giornata Montefalcione rende merito ad un grande irpino, onorevole Alberta Di Simone. Il messaggio di un suo caro amico, all'epoca era assessore alla provincia con Emilio Ruggero, Francesco Barra. Il mio ricordio di Emilio Ruggero non può che essere velato dalla malinconia e dal rimpianto per un'esistenza tanto fervida di vita e di speranze, così improvvisamente e crudelmente spezzata da appena 43 anni, proprio quando sembravano aprichisi nuove prospettive di vita personale e politica. Un destino è suo, senz'altro crudele, ma non solo per lui e la sua famiglia. La sua perdita, infatti, ha privato la sua Montefalcione che tanto amava, venendone riamato, e tutta l'irpinia di una presenza quanto mai qualificata ed attiva, sia nel campo amministrativo che politico. Una perdita che negli anni successivi alla sua repentina scomparsa, il 14 marzo 2008, ha sicuramente inciso, assai negativamente, sugli assetti politico-amministrativi della nostra provincia, lasciando un vuoto gravissimo di pensiero e di azione in una classe dirigente che già allora appariva in divino. L'ultimo ricordo che ho di lui mi è rimasto indissolubilmente impresso e non potrò mai dimenticarlo. Eravamo in un momento grave e teso di crisi politica, che infatti di lì a poco sarebbe precipitata, e partecipammo insieme ad una riunione informale di alcuni assessori della giunta preseduta ad Alberta De Simone. Il confronto fu teso, perché chiaramente preludeva alla rottura interna del gruppo del Partito Democratico, che di lì a poco, infatti, si produsse con esiti a dir poco disastrosi. Ancora una volta ci trovammo, Emilio e Dio, schierati senza esitazione sulla stessa linea. Quando uscimmo dalla riunione, mi vide particolarmente stanco e deluso, e provato, anche perché avevo la febbre. Ci lasciamo con l'intesa di rivederci a suo ritorno dalla sua imminente partenza per il Brasile, per il viaggio da cui non sarebbe più tornato. Mi disse a rivederci, mi abbracciò affettuosamente e per tirarmi su mi offrì una caramella. Non ci saremmo mai più rivisti. Professor Francesco Barra Tanti sono stati gli amici di Emilio e nel corso della serata avremo modo di ascoltarli. Uno di questi era sicuramente Romeo Castiglione. Buonasera a tutti. Allora, Emilio Ruggero era un amico di famiglia. Io nel 2008 ero poco più che un ragazzo, però soltanto dopo ho capito l'importanza di Emilio. E ho capito anche un'altra cosa, che le persone significative, ed Emilio lo era, non lo era solo per me, ma anche per la comunità di Monteclione, anche per gran parte dell'Elepina, sono come dei maestri che ci lasciano una lezione. Qual è l'azione di Emilio? Emilio ci ha fatto capire che siamo di passaggio. A volte questo ce lo dimentichiamo. Questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare, che la vita è transitoria, che possiamo perdere qualsiasi cosa all'improvviso, senza un motivo logico. E poi ci ha fatto capire anche un'altra cosa, che è importante. Ci ha fatto capire che le emozioni vanno vissute fino in fondo, che le emozioni devono vivere, che non bisogna avere rimorsi nella vita, e bisogna fare, bisogna usare, non fermarsi. E questo mi ha fatto capire Emilio, ed è una cosa che conserverò sempre senare dentro. Sono prima persona, e poi politico più unico che è raro. E abbiamo perso veramente qualcosa di importante, soprattutto oggi, in questi tempi difficili, come ha detto prima Sena, in questi tempi di crisi. Chi più di Emilio, che avrebbe contrastato lo spopolamento. e questa è una cosa che molti si dimenticano, perché Emilio veramente aveva un progetto. Cioè oggi si parla di progetto, ma non è vero. Cioè Emilio ce l'aveva veramente. E poi Emilio parlava con tutti, con i giovani, amava la musica, amava l'arte. Era veramente una persona speciale. E questo ricordo che io conserverò sempre di Emilio. Io solo queste cose, volevo dire, per non rubare tempo, insomma. Sono di mano calzati, però sono molto legato a Montefalcione. E questa è un'iniziativa veramente lodevole, e un motivo in più per venire a Montefalcione. E ricordo un'altra cosa, nel 2008, un pensiero di Alberto De Simone, che secondo me forse ha raggiunto, nel migliore dei modi, di Emilio. Hai detto, Emilio è un uomo profondo, e pieno di bontà. Cioè è stata la definizione, secondo me, più azzeccata. E poi, voglio chiudere semplicemente con questa frase, che è vero. I grandi uomini si misurano da ciò che danno, e non da ciò che ricevono. E questo per Emilio è vero. Un saluto a tutti quanti voi. Grazie. Grazie a Romeo Castiglione. Anche Nello Pizza, segretario provinciale del Partito Democratico della provincia di Avellino, ha voluto ricordare Emilio così. Emilio Ruggero è stato un figlio della sua comunità. È stato un sindaco amato dalla sua gente, e che per la sua gente ha dato tutto. È stato un amministratore provinciale molto attento alle dinamiche territoriali. È stato un militante politico appassionato. La sua scomparsa prematura e dolorosissima ha interrotto un percorso di vita che avrebbe avuto senza dubbio nuove traiettorie e significativi riconoscimenti. Emilio aveva la determinazione e la gentilezza come suoi tratti distintivi. La sua comunità lo ricorda per la disponibilità, ma anche per l'inventiva, per la capacità di progettare un futuro legato alle eccellenze territoriali, alle tradizioni, ma utilizzando anche gli strumenti dell'innovazione. La nostra comunità provinciale ha perso in quel tragico marzo del 2008 un prezioso riferimento politico ed amministrativo. Un irpino fiero, un uomo capace di visione, un esempio di come si debba e si possa costruire il futuro. Nello Pizza, segretario provinciale. Grazie. 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 Grazie.